Buongiorno mondo e benvenuti in questo nuovo vlog! Oggi non ce la fate di me, sto carina, eh? Nuova sigla! Che sto facendo? Niente, che sto facendo? Mi sembra ovvio, sto facendo la tinta, il solito mio colore che appunto sembra obrobriosamente rosso, troppo rosso, ma è quello, sì. Stavo osservando che con la luce del sole questa tinta è rossa, rossa, ma tanto rossa, mamma mia. Forse è l'ultima tinta rossa che farò, non lo so, vediamo. Ma buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Lei sta meglio! Sto meglio! Solo in relax, sono chiuso! Dai, 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 dai! Ci siamo, ci siamo! Possiamo tornare a fare shopping insieme? Vedo la luce, no, no, sto malissimo! Ti è piaciuto il mio shopping di ieri? Sì, carino. Chi non l'ha visto che deve fare? Vado a vedere il video. Il video precedente a questo? Precedente. Buongiorno a te! No! Milo! Ciao! Qui abbiamo anche Shanti, ovviamente, che dorme. Ma è strano, non dorme mai! No! Abbiamo risumato vecchi giocattoli. Io ogni tanto qualcuno... Sì, non te lo tocco, non te lo tocco, non te lo tocco. Sì, stai arrabbiata? E quindi, niente, ogni tanto glieli tolgo, perché sennò a casa è piena di giocattoli, ho buttato via. Ho fatto decluttering anche dei giocattoli loro. Eh sì, effetti, in modo molto silenzioso, perché sennò era un casino. Sì, che cosa facciamo oggi? Noi siamo come, non lo so, come gli uccellini sugli alberi, viviamo alla giornata, spesso. Che c'è? Non ti è piaciuta questa metafora? Questa similitudine, anzi hai ragione. Sì, tu, tu, che metafora o barra similitudine farei con te? Mamma mia, Milo. Ma tu veramente non ce n'hai mai abbastanza delle coccole? Mai, mai, mai. Beh, del resto qualcun altro non ne ha mai abbastanza di dormire. Lo porto via adesso questo giocattolo. Lo porto via, lo porto via con me. Oddio. No, non è vero, lo lascio, lo lascio. E tu, è tu, è tu, oh, madonna. Cosa c'è? Sei interdetta? Mamma mia che sguardi che me... Milo, 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 non così, non così che poi si incansi. Bravi. Milo, non sganciare. Sto preparando da pranzo. Qui c'è un sughetto con la pancetta per Christian. Qua sta andando l'acqua. Poi qui farò, salterò la pasta. Ho scelto questa meravigliosa pasta che sono i miei semplicissimi rigatoni. Io invece ho i pomodori. Buonissimi questi qua sono i datterini, sono dolcissimi. Poi c'era mezza piadina che praticamente stava lì, era morta, quindi mi sacrifico. E a posto del pane. Con la fesa di pollo e lo spinacino. Qui c'è una fesa di pollo con lo spinacino. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we got several pathways, but your heart's still in mind, yeah. And maybe we could shine next week again. But I don't want a thing what's up. Insomma, non ti è piaciuta? Mmh. Per niente, vero? Per niente. Mi sono truccata, imbellettata, vestita, guardate che carino questo luogo gila, io l'adoro. È outfit molto molto semplice e vado a fare un piccolo giretto. In realtà voglio andare a prendere l'accrocco per la macchina. E sono arrivata a casa e ho una cosetta per il marito. Marito, adesso giro la videocamera. Dicevo, giro la videocamera così vedi che cosa ti ho preso. Sono curioso. Però mettiti a favore di camera. Sono sempre contro luce. Ho comprato l'attrezzo lì per la macchina, va bene? Sì, speriamo. Come speriamo? Non ho preso qualcosa giusto? Il scontrino ce l'hai eventualmente? Sì, ma perché? No, fare lì sì, dai. Con la ventosa, no? Eh, con la ventosa lo volevi tu? Sì, che è direzionabile. Sì, sì. Direzionabile, no? Sì, si è messo a piove come un dannato. Daniela ha lasciato la persiana aperta sopra. Pazienza. Io non esco adesso. Quindi? Farà carino, dai, lo proveremo. Sì, ma chiudi gli occhi. Metti le manine a... Vendicate. Sì, un po' più dritte. Più dritte. Guardate qua. Non aprire. Cerca di indovinare. No, odore no. Perché odore no? Odore no. Dai, odore no. Così senti l'odore. Christian. A parte che è un affreddore. No, sbatte. Insomma, che cosa sono? Sì. Che buoni. No, ci sono. Sei contento? Ti rilascio per ceno. Vabbè, ce n'è due. Anche uno, infatti uno per merendolo. Guardo, c'era la scatolina con uno. Ho detto, ma uno. Un po' è brutto. Prego. Voi dovete sapere che Christian è stato male una settimana e ha lavorato sempre. Che odio. Che odio. No, sempre. Quando ho iniziato... Quando suonavo al telefono, quindi sempre. Quando ho iniziato a essere... Sempre. A essere un po' più in condizione. Ma che dici? Sì, dai. È da martedì? No, no. Da martedì ha ottenuto cosa sempre... Ciupapò. Perché dovete sapere che Christian è capricorno. E lui è dedito al lavoro in una maniera che manco a sua mone gli è così dedito. Non esagerare. Che esagerazione. Ho detto la verità. Ho detto un'esagerazione. Ho detto la verità. Milo. Milo. Guarda qua. Sì. Ciao. Vieni su. Qualcuno ci guarda là. Guarda un po'. Santi. Guarda un po' che qualcuno ci guarda là. La nostra family. Io vi amo. Anche a te, cane grande. A tutti. Anche se lavori. Anche quando stai male. Sto riprendendo. Si danno i bacini. Sì, forse lui le baci. Credete già. Scusate, ma è troppo divertente vedermi lo sbagliare. E non l'ha visto. Ah, io a vedere i capelli. Vabbè. Oddio. Mi sto storsando. Io ora andrei a farmi il semi permanente sui piedini. Che è da prima che voglio farlo. Cambierei quel fucsia che... Ma guardate. Ma guardate. Ecco qua. Ole. Adesso chi te gratta la panza? Occhio matto. Guarda che occhio matto. Occhio matto. Vabbè. Vado. Vado. Aspetta me qua. Santi. Aia. Santi che fa? Niente. Santi dorme. No, è sveglia. È sveglia? Aspetta dentro. Sta ammazzando. Mia figlia, aiuto. Santi. Guarda un po' che ti riprende mamma. Che culo ha detto. Ti senti sotto pressione? Ma è un fermo immagine. Oh mamma. Senti una fotografia? Esattamente così. Quando il filo è corto, io metto il piede lì dentro. Ciao piedino. E secondo voi che colore ho scelto? È bellissimo. No, vabbè. Ma che bello è questo colore, ragazze. Adoro. L'unico problema è la stesura di questo smalto che è un po' tanto gelatinoso. Allora. Ve lo faccio vedere bene. Scusate se sono un po' rossa qua. Guardate che bello sto colore. Io lo amo. È un lillino, ciclamino, carino. Ecco qua. La cena. Allora. Salsiccette per Christian. Qui c'è un'insalata mista per entrambi. Ci ho messo tutto. Ci ho messo il mondo dentro. Comodorini, cetriolo, rucola, insalata iceberg e cavolo cappuccio rosso. Ho detto tutto. Io non mangio niente. No, non è vero. Io c'è la ricotta che preferisco tenerla qui anziché ribaltarla, che mi mangio col cucchiaino come fosse lo yogurt. I miei fantastici 30 grammi di pane e il resto sono magna Christian. I cani mangiano invece la fantastica treta scelta. Vediamo, Shansi, se oggi va bene. Non lo so. Va bene? Sì, sembra di sì. Qui dentro c'è la pasticchetta, ma non ditelo a nessuno. Soprattutto non ditelo a lei. Detto ciò, noi ci aggiungiamo a fare cena, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Vai! Vai tu, vai tu! Vai tu? Vai!